Ciò è duro con Belli Scuola, l'ho detto io ma quando dice Belli Scuola, allora che mi ha fatto? Perché ci ha votato per Vestroni? Ci ha votato per Vestroni perché è chissà, deve essere duro con Belli Scuola, perché ci ha fatto per sé, ha Vestroni vinto la camera, aveva partito, non l'aveva fare proprio, non doveva mettere proprio con Belli Scuola, aveva fatto una posizione dura con Belli Scuola. Vorrei che in questo momento non finissi mai, è grande televisione, non mi è mai piaciuto proprio.